Ben trovati, ultimo appuntamento settimanale con Ex Cattedra Pillole Quotidiane, dedicata al calcio Foggia 1920, dunque quando ormai più nessuno se lo attendeva, ieri il ribaltone è arrivato via Cudini, squadra temporaneamente affidata al tecnico della Primavera 3, il viestano Massimiliano Olivieri che evidentemente siederà lunedì sera in panchina in occasione del derby del Monterisi contro l'audace Cerignola. Sarà una presenza estemporanea perché poi la prossima settimana si attende l'annuncio di colui che sarà chiamato a guidare la formazione rossonera fino alla conclusione della stagione. Ma come in molti si sono chiesti? Avevate oramai evidenziato, sottolineato che Cudini sarebbe rimasto in panchina fino alla fine dell'anno, quindi ancora per due gare e poi magari si sarebbe fatta una valutazione più ad ampio raggio? Perché? Perché poi improvvisamente questa inversione ad u. Beh, premesso che quando c'è di mezzo canonico bisogna sempre prendere tutto con beneficio di inventario, non dire mai gatto proprio se non ce l'hai nel sacco e ancora una volta insomma il patron del Foggia ha dimostrato di voler sorprendere con questa scelta che ovviamente era nell'area, che sembrava però essere differita nel tempo e che poi invece è diventata di grande attualità. Perché vi starete chiedendo? Beh, immaginiamo perché nelle ultime ore sarà accaduto un qualcosa che ha fatto ritornare sui suoi passi, il patron rosso-nero, chissà forse l'incontro avuto con i tifosi, con la tifoseria organizzata, anziché magari segnali preoccupanti che sono arrivati dall'interno dello spogliatoio, che lo hanno particolarmente preoccupato e allora ha preso il coraggio a quattro mani, insomma ieri è piombato lo zaccheria fino all'allenamento e con il decisionismo che solitamente li riconosciamo insomma ha optato per questa scelta. Si chiude il breve regno dunque di Cudini sulla panchina del Foggia e questo suo periodo trascorso qui in Capitanata sarà ricordato come molto controverso una prima parte assolutamente brillante, una seconda invece molto deficitaria, nelle ultime nove gare il Foggia ha racimolato soltanto sette punti e dalle primissime posizioni di classifica si è ritrovato ora ai margini della zona playoff in dodicesima posizione con un poiché in questo frangente sarà bene più rivolgersi alle spalle che non avanti. Adesso ovviamente il grande tema è chi arriverà sulla panchina del Foggia, diciamo che questa scelta arriva anche perché va detto, la verità va detta, insomma è stata anche un po' la squadra di aver scaricato il suo allenatore, forse perché non si identificava più anche nelle idee dell'allenatore di Sant'Elpidio a mare, troppi cambi di moduli, troppe rotazioni anche degli interpreti e questo alla fine oltre che malcontento ha finito con il confondere anche le idee al gruppo. È chiaro che con questa scelta adesso Patron Canonico toglie ogni alibi anche alla squadra che si presenterà in autogestione quindi al derby di Cerignola. Chi sostituirà Cuglini? Un grande punto interrogativo, i nomi ricorrenti sono sempre quelli, si è parlato di Pasquale Padellino anziché che di Giuseppe Raffaele, mentre il primo ha sempre detto di non essere stato contattato, il secondo sicuramente avrà ricevuto più di qualche telefonata e certo però che non più tardi di ieri Canonico abbia incontrato proprio qui a Foggia degli Orossi, si proprio lui, l'allenatore che l'anno scorso ha portato il Foggia ad un passo dalla conquista della Serie B, era Foggia degli Orossi per sbrigare alcune faccende personali e Canonico ha voluto incontrarlo per proporgli evidentemente di tornare in panchina. Secca la risposta però del tecnico Rimeniese che così come disse nello scorso giugno di sentirsi troppo coinvolto emotivamente in questa sua avventura a Foggia di non essere dunque sempre lucido, ha deciso per una seconda volta di dire Tino a Canonico. La prossima settimana conosceremo il nome del nuovo tecnico, speriamo, nel frattempo Foggia in autogestione nel derby di lunedì sera del Monteresi contro l'audaceo Serignola. Ciao!